Ciao Vincenzo, dove stai intanto? A mare, a goderle, le gappe gare. Ciao ciao, dicelo. Dove siamo qui? Dove è Catania? Stiamo a Catania. A Catania, siamo a Catania. Stiamo a Catania. Stiamo a Catania, purtroppo siamo a Catania. Guardate che è bello, tutto è bello sistemato, a distanza adeguata, ma c'è qualcuno che non rispetta l'ambiente, c'è il bicchiere di plastica, ma è pulita la spiaggia, solo queste quattro cose che ci sono per terra. Alla fine la spiaggia è pulitissima, ci sono le distanze, c'è queste cose, non so, le distanze, ci sono queste linee che dividono i passaggi. O mare.